Allora, molto bene, Ricky non hai superato la prova da opinionista ma puoi diventare un attore di Sky Cinema. Allora, in cosa consiste la prova? Adesso noi ti faremo vedere una scena di un film e tu con Paolone Tramezzani dovrai riprodurla uguale. Vediamo la scena del film che dovete rifare. Va, è semplicissimo, premi questo bottone e ci faccio. Chi è? E' guasto, accidenti. Guasto? Che significa guasto? Significa che l'ascensore è guasto, che è una cosa rotta da buttare via, che non serve a niente, hai capito? Una cosa che non serve a niente, da buttare via, una schifezza qualunque, è più schifezza di te. Fammi io! Molto bene, allora, vediamo, li abbiamo preparati, allora diamo il via al conteggio alla rovescia, io vi lascio e dovete rifare la scena uguale. Guarda, è semplicissimo, premi questo bottone. Eh sì, versù, chi è? È guasto, accidenti. Guasto, che vuol dire? Significa che l'ascensore è guasto, che è una cosa rotta da buttare via, che non serve a niente, hai capito? E a cosa serve? A niente. Da buttare via? Una schifezza qualunque. È più una schifezza di te, dove? Cammina. Allora, andiamo, no, scusa, scusa, eh, Fatto, Fatto, siamo qua, scusa, cosa stai qua, dove vi, ma vabbè, allora, vabbè, qui ormai passa da, allora abbiamo gli altri due, vediamo la scena insieme che dovete rifare. Eh, ma tu che vuoi? Mi li dà? Ma non lo vedi l'abito santo che io porto? Ah, ma allora ne ha capito un cacchio, questa è una rapina, insomma, mi devi dare la borsa o la vita? Io preferirebbe la borsa, ecco, fambo te. E va buono, va buono, io non ho tante denare, posso darti la borsa delle limosine. Ma che è già masqua, oh? Bene, conteggio alla rovescia e partiamo. Ehi, ma tu che vuoi? Mi li dà? Non lo vedi l'abito che porto? Ah, ma allora non hai capito un cacchio? Questa è una rapina, insomma, mi dovete dare la borsa o la vita? Io preferirebbe la borsa, ecco, fambo te. Io non ho tante denare, posso darti la borsa delle limosine. Ma che è già pasqua? Molto bene, molto bene, allora, vieni Paolo, vieni Beppe. Allora, votiamo subito per l'interpretazione di Ricchi Maspero. No, venite, venite, vieni Beppe. Allora, votiamo per l'interpretazione di Beppe Cardone. Allora, com'è, com'è Phantom? Genere, prova a spareggio serve. Allora, prova a spareggio, allora, tutte e due, quella era tutte e due insieme, credo, no? Sì, assieme, adesso... Allora, togliti, riusciamo a togliere la... no, va bene, la può fare anche così. Allora, alzatevi, dovete fare la prova a spareggio, dovete mimare insieme questa scena del film, il migliore vincerà la prova. Vediamo la scena del film che devono mimare. No, ha vinto lui, Genere. Va bene, allora, partiamo con la scena. Si può fare anche vestito... Può sa anche da prete. Esatto. Va bene, allora, partiamo con la scena, Phantom. Siamo, Genere, via. Allora, via, andate. Vabbè, lasciamo listare, dai, niente, dai, niente, pareggio, sostanziale pareggio. Allora, quindi niente, allora abbiamo niente mascotte per Sky, allora rimangono sostanzialmente a parità, allora abbiamo una novità fantastica. Noi ci è venuto a trovare...